Patini a rotelle, patini in linea, 5 rotelle, sono patini da corsa, patini da velocità e sono i patini che tra poco vedremo scorrere sull'asfalto della prima Roller Xtreme, la prima gran fondo, anzi grandissimo fondo se si potesse dire così, dei patini a rotelle in Italia. A 100 chilometri da Roverito fino a Bolzano, tutti condotti su un nastro d'asfalto della pista ciclabile che collega appunto le due città del Trentino e dell'Alto Adige. L'organizzazione è curata da un comitato governato da Max Bavieri che vedremo tra poco in gara nella duplice veste quindi di organizzatore e di atleta ma anche di commentatore qui al nostro fianco per raccontarvi questa giornata. Eccolo qui Max Bavieri prima della partenza. Abbiamo visto questa Eugenia Bicciugova, queste sono altre partecipanti, sono atleti anche non del tutto atleti, insomma gente comune, persone che hanno aderito all'invito di Max Bavieri di disputare questa 100 chilometri per dimostrare quanto sia utile anche come mezzo di trasporto il pattino a rotelle, non solo pattini a rotelle però anche ski roll. E vedremo nel corso di questi 100 chilometri similitudini, differenze tra i due attrezzi, tanti materiali diversi, tante tecniche diverse, ce n'è un po' per tutti. Ed ecco il momento della partenza. Abbiamo visto prima nella fase di preparazione qualche dimostrazione di abilità sui pattini, lo slalom di Mattias Saltalleggio, campione esperto di questa specialità appunto, quella dello slalom Max Bavieri. Ecco quindi la partenza e questo obiettivo, quello di far vedere che i pattini non sono un attrezzo pericoloso, è un attrezzo che può girare sulle strade, qui naturalmente limitatamente alla pista ciclabile che vi ha regalato questi bellissimi 100 chilometri. Stupendi, proprio bello, bello, un panorama fantastico. Le piste ciclabili secondo me e secondo tutti questi partecipanti sono un po' il futuro anche per decongestionare le città dal traffico e portare anche possibilmente l'Europa agli Stati Uniti o a Parigi dove la gente va a lavorare con i pattini, vuol dire meno traffico, guarda questo che vale indietro, che bello. Sono cose belle, occorrerebbero ciclabili. Immagini che ci mostrano appunto come anche un percorso urbano possa essere tranquillamente percorso da pattini in linea e da ski roll. Dobbiamo dire che questo è il primo esperimento in Italia su questa lunghissima gran fondo, questa maratona di 100 chilometri, che si avvale soprattutto degli argini del fiume Adige che scorre appunto dall'Alto Adige verso il Trentino e quindi poi verso il Veneto. Ci sono altre, soltanto altre tre gare al mondo di questa dimensione, di questa lunghezza. C'è la Athens to Atlanta in Georgia negli Stati Uniti, ce n'è una di 100 chilometri a New York e poi ce n'è un'altra in Europa a San Gallo e in Svizzera che è esattamente di 111 chilometri, ma sono tutte manifestazioni competitive. Addirittura in Svizzera la media minima è di 20 chilometri all'ora, chi non riesce a mantenerla viene estromesso dalla gara. Qui non è così, qui si partecipa con uno spirito molto più goliardico, molto più festaiolo, se vogliamo anche se la competizione in se stessa c'è. Vedere quanto si riesce a mantenere una certa media per 100 chilometri è una prova che stimola un po' tutti questo centinaio di coraggiosi che hanno preso il via da Rovereto. Sì 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 sì, poi li vedete anche hanno tutti gli zaini perché lo scopero proprio quello del viaggio, non della gara. Facciamo un viaggio e lo facciamo con le ruote ed ecco che chi si porta dietro da mangiare con lo zaino, chi da bere, chi magari le scarpe per momenti di difficoltà è stato bello. Col caschetto giallo intravediamo qui davanti Eugenia Bicciugova che è un'atleta vera, un'atleta che nel 95 ha vinto la marcia longa che è stata nazionale russa, atleta di Mosca da otto anni in Italia, si è accasata qui in Trentino e che ha accettato questa sfida. Lei non ha mai fatto una gara così lunga, nemmeno un allenamento crediamo in vita sua. Lei usa gli ski roll come allenamento estivo per preparare la stagione invernale, così come molti altri ski roller, a differenza dei patinatori che scelgono il patino, ora soltanto il patino in linea, il patino quad non si usa più, non se ne vedo più in giro con i patini a strada, assolutamente no. Con le rotelle appaiate, ecco, i patinatori solitamente si dedicano in maniera esclusiva al patinaggio. Per alcuni di loro è proprio uno stile di vita addirittura, un po' possiamo paragonare la filosofia dello snowboarder che prende lo snowboarder come una filosofia di vita più che come uno sport da fare. Ma guardate la velocità, oltre 40 km all'ora, ci sono delle gare che portano gli atleti, gare naturalmente più brevi di questa, che portano gli atleti a concludere ad una media superiore ai 43-44 km all'ora. I professionisti fanno la classica maratona ai 42 km in un'ora, insomma quelli sono i tempi. E quindi 42 all'ora di media, è una media da bicicletta. Eh sì, sì ma anche quando io stesso vado a pattinare su queste piste ciclabili e ogni tanto mi metto dietro per stare in scia a qualche ciclista e le facce sono basite perché loro non possono credere che senza rapporti e con ruote così piccole si riesca ad andare a loro velocità, ci si riesce. Era quello che volevamo dimostrare con questa cosa, anche perché 100 km sono stati affrontati da grandi atleti come Eugenia Biciugova che ci ha onorato la sua presenza, siamo felicissimi che lei fosse dei nostri perché è veramente un onore per noi. Però la cosa che abbiamo organizzato era proprio di dimostrare che questo è un mezzo di trasporto e chiunque, quindi anche il padre di famiglia, l'impiegato che nel tempo libero va a fare un po' di sport così per tenersi in forma, lo studente, chiunque insomma anche noi atleti possono usare i pattini al posto della bicicletta per spostarsi. E questo l'abbiamo fatto e dimostrato, la pelle è quello che insomma ci vogliono più ciclabili e per fortuna abbiamo un esempio bellissimo che è quello del Trentino Alto Adige che di ciclabili ne è pieno. E guardate questa è l'arteria più lunga, appunto 150 km da Bolzano fino al Lago di Garda, a Riva del Garda, una strada che si può percorrere in bicicletta o così con i pattini o gli scheroli ininterrottamente passando attraverso città e panorami davvero impagabili. Siamo sulle sponde del fiume Adige. Dicevamo non atleti ma anche atleti come Mattias Saltaleggio, come Tarek Hassan Ben Amur, il tunisino che vive a Bolzano che ha dato una mano nell'organizzazione di questa manifestazione. Diciamo che è stato il primo a pensarci, facciamo questa cosa. Ecco ancora Eugenia Bicciugova intanto, guardate la sua spinta, una spinta tipicamente da fondista, un passo in piano, una spinta sulla pattinata destra, è caratteristica di Eugenia, c'è chi invece spinge sul pattino sinistro, una tecnica del tutto diversa però da quella del pattinatore puro che vediamo inquadrato in questo momento. Ecco questo è Corrado Fostini, è un trentino di Bocenago, è un ex okeista su ghiaccio, è bello perché sul pattinaggio a rotelle confluiscono personaggi che vengono da diversi sport, è un po' una specie di... Si vede la falcata dell'okeista con la spinta di punta, non è proprio una falcata da velocista, la spinta di punta caratterizza appunto l'andatura degli okeisti. E di nuovo, guardate, siamo sugli schiroller o schirollisti, con la Eugenia Bicciugova a fare da traino a quest'altro concorrente. Eccola, eccola, è splendida, è splendida, siamo veramente felici di averla buttata con noi, ci ha riempito di orgoglio veramente, una cosa amatoriale dove una professionista ci si è buttata a capofitto e ha avuto anche il coraggio di affrontare la distanza che altri atleti molto blasonati avevano come paura di rovinare la loro preparazione con una cosa massacrante come 100 km, quando invece poi c'è riuscito anche il ragioniere Brambilla a finirli questi. Vogliamo citarlo, ad esempio? Possiamo citare allora le anagrafi estreme. Abbiamo il concorrente più vecchio in gara, che è un milanese di 63 anni, Angelo Fraschini, e il più giovane, che non ha ancora compiuto i 13 anni, è Matteo Sasso, un ragazzo veneto di Bassano del Grappa, però ha il vantaggio di essere figlio d'arte, il papà era nazionale di Occhi. Di Occhi e Rotelle, sì. Che poi è anche qua in gara, ha i pattini con le bacchette come fosse un ibrido. Ecco, parleremo di questo in termini. Ecco, qui stiamo fiancheggiando l'Adige all'attraversamento della città di Trento, siamo nel quartiere di Piedicastello, questa è la sponda a sinistra dell'Adige, che si va verso nord, più sulle montagne dell'Alto Adige, siamo a circa 25 km, quindi a un quarto di gara. Sì, ecco qua c'è, su quel pezzo di Trento, c'è stata una difficoltà tecnica, perché è un asfalto ecologico, detto così perché è fatto a grani molto grossi e di colore rosso, e non è proprio bellissimo andare sopra. Eccolo qui, quello che dicevi tu prima, i pattini in linea, però con il correddo di Bassano Cimbi da Fonte. E' un'altra scelta tecnica, abbiamo visto, ne abbiamo visti tutti i colori qua, veramente, è una visione di umanità molto eterogenea. Ecco, ma tu sei tecnico e atleta, qual è l'assetto consigliabile per questo tipo di gare? Vanno di più gli ski roll, vanno di più i pattini in linea? Allora... Si va meglio con i bastoncini, senza bastoncini? Allora, se guardiamo i tempi, allora possiamo dire che i primi tre, quelli che hanno fatto il tempo più basso, avevano pattini in linea a cinque ruote con scarpa bassa, quindi scarpa in carbonio, qualcuno di loro probabilmente la scarpa si è anche fatta fare su misura da un artigiano che ne sa, e poi dietro avevamo come quarta assoluta la biciugova con gli ski roll, però stiamo parlando della biciugova, per cui verrebbe da dire che il pattino a cinque ruote e scarpa bassa, come velocità, è senz'altro più veloce. Dopo, avere le bacchette per potersi spingere anche con le braccia, quindi una doppia trazione, è come una specie di 4x4, non lo so. Le bacchette forse sono anche un sostegno psicologico, perché qui se si cade non è come cadere sulla neve. No. Si cade sul duro. Si cade sul duro, non è simpaticissimo, infatti sarebbe consigliabile mettere delle protezioni. Ecco, l'unica protezione che vediamo però è il caschetto, questo è obbligatorio, però ci sono ginocchieri, ci sono gomitiere, ci sono guanti che evitano le abrasioni sui palmi delle mani. Guardate la spinta forte, anche questo è un passo in piano. Ecco, questo è Bobo Sasso, il papà di Matteo, quello che si diceva prima. Il dodicenne figlio d'arte. Esatto. Ecco, un'altra variabile nella scelta dell'attrezzo riguarda il numero delle ruote. C'è chi pattina con quattro, chi pattina con cinque, che differenza c'è? Eh, allora, è come avere la quinta in un'automobile. Quattro ruote hai la quarta, se metti la quinta hai anche la quinta, quindi spingi in scioltezza di più. Ecco qua in testa Emanuele Radice, che poi è dietro seguito da Mattia Saltalleggio. Questo è il gruppo dei primi e qui vediamo in questo gruppo la differenza fra ski roller e qui c'è un concorrente che invece ha le prese con dei crampi. Mattia Saltalleggio. Mattia Saltalleggio che abbiamo visto prima della partenza in quell'esibizione nello slalom. Sì, lui è campione italiano di slalom con i birilli, una specialità molto coreografica. Ma soprattutto molto più breve dei 100 chilometri che si sta accingendo a completare. Mattia Saltalleggio. Ecco altri concorrenti. La borraccia sulla schiena, c'è chi usa la borraccia zaino e si alimenta con dei liquidi attraverso una cannuccia che succhia direttamente dalla sacca che si porta sulla schiena. Chi invece opta per una più tradizionale borraccia di tipo ciclistico o fondistico. Altri scorci, qui siamo in mezzo ai masi, ai casolari di campagna, stiamo andando verso l'Alto Adige, la pista ciclabile. Non è stata chiusa al traffico per questa manifestazione, proprio nello spirito del quale si diceva, dimostrare cioè che si può stare insieme agli altri, insieme alle biciclette, insieme ai podisti, anche con i pattini a rotelle. Eccone qui la dimostrazione. La dimostrazione è stata questa, poi chiaramente eravamo in tanti e quindi chi veniva incontro, la pista ciclabile non è larghissima, chi ci veniva incontro ha trovato magari delle difficoltà, ma perché eravamo in tanti, non perché avessimo gli schirol piuttosto che i pattini. Ecco, riguardo agli schirol c'è da dire che in effetti lo schirol occupa più pista rispetto al pattino perché il movimento dei bastoncini che si allargano ai fianchi, vedete, può intimorire in qualche modo il ciclista o comunque il podista che si vede venire incontro a grande velocità lo schiroler. Tant'è che effettivamente un bastone magari in faccia non fa piacere a nessuno, però è anche vero che insomma basta mantenere la destra, avere il rispetto del prossimo, se passa un ciclista uno smette di spingere coi bastoni, aspetta un attimo, passa il ciclista e poi ricomincia a spingere di nuovo. Per cui le cose sono più che gestibili, poi addirittura i pattini hanno anche la possibilità di frenare in brevissimo tempo. Ecco, qua abbiamo una bella inquadratura che mi ricorda tanto la Paola Pezzo. E questa è Assunta Mingone, atleta romana, che si è fatta tutto il viaggio in treno da Roma a Trento e a Rovereto per partecipare a questa 100 km, si aggrappa alla mano del marito, si fa trainare e è consentito anche questo tipo di collaborazione. Cittavi la Paola Pezzo per il De Coltene, sicuramente Paola Pezzo che ha vinto così la sua Olimpiade di Atlanta, la sua prima Olimpiade. Eh, bello. No, questo gruppo di Roma è fantastico, questo è appunto l'uomo suo, se vogliamo dirlo alla romana, e si sono fatti questa bellissima vacanzina, vacanzina di un giorno. Sono partiti di notte, sono arrivati a Rovereto alle 7.10 con il treno, siamo andati a prendere in stazione, hanno fatto la Roller Extreme, 100 km sui pattini, e poi niente, è finita la Roller Extreme, una bella grigliata, dopodiché in stazione di nuovo per prendere il treno e tornare ancora a Roma. Cioè in un giorno solo questi cosa non hanno fatto, è incredibile, lo spirito giusto devo dire. Eugenia Bicciugova da sola ora, da sola verso il traguardo, è in quarta posizione in questo momento, davanti a lei Mattia Lucconi della Fila Libertas Skating di Piacenza, Emanuele Radice della Cinisello Coop Lombardia e Giulio Gallinelli della Game... Ai 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 ai... E la caduta, questo è quanto dicevamo prima, la rivediamo. La rivediamo perché vale la pena. Si va sul duro. Ai 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 ai, bisogna saper cadere, scaricare la forza di propulsione rotolando sulla spalla. Rotolando ti aiuta molto. Ah qui poi abbiamo trovato dei lavori in corso lungo, d'altronde 100 km di strada, bellissima, non si poteva pretendere trovarla. C'è stato anche lo sterrato in questa avventura. Eh sì, una Roller Extreme, aggettivi come Extreme vanno usati non per caso insomma. Altre ragazze che partecipano senza velleità se non quella di arrivare a Bolzano. Sì, sì, sì. Questi sono Roller da hockey, scarpa, scarponcino alto, in qualsiasi negozio. Tra il resto attrezzi che costano veramente... Anche poco, sì, 100 euro, 150 euro. Ma anche meno. Ma sì, beh, se trovi delle... C'è stata una concorrente che ha partecipato con un pattino che credo sul mercato non valga più di 25 euro. Ecco, infine, quindi c'è una possibilità di calibrare la spesa in base alle proprie tasche, di divertirsi comunque. Questi sono naturalmente pattini da gara e qui vediamo Mattia Lucconi che in questo momento è al comando. Dietro di lui Emanuele Radice, più staccato. Giulio Gallinelli, siamo sulla testa della corsa, che si avvicina ormai a Bolzano. Guardate anche qui i segni di qualche caduta sulla gamba di Mattia Lucconi, dietro di lui Emanuele Radice. Ecco qua, queste sono le conseguenze. D'altronde, questo è un atleta di alto livello e non mette le protezioni. Il consiglio è che se si vuole mantenere la propria incolumità nelle piccole inevitabili cadute che ogni tanto capitano, una bella protezione risolve tutto. Dopo chiaramente gli atleti di alto livello preferiscono dare al look l'importanza maggiore. Eugenia Bicciugova in quarta posizione dietro Lucconi Radice e Gallinelli. Ha abbandonato la compagnia maschile e se ne va tutta sola. Evidentemente ha preso la misura di se stessa, capisce che può arrivare tranquillamente e anche bene al traguardo. Ed ecco l'arrivo. Mattia Lucconi, Emanuele Radice, Giulio Gallinelli in quest'ordine. Quasi abbracciati i primi due, più staccato. Gallinelli, tre ore e trentotto primi, oltre venticinque chilometri orari la media. La prima delle donne, ma anche la prima di coloro che hanno utilizzato gli ischi roll. Tre ore e cinquanta minuti, quarta assoluta a dodici minuti dal primo. Quando all'inizio mi hanno detto cento chilometri, oddio, no, 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 perché mai ha fatto anche con sci, mai ha fatto la mia vita cento chilometri. Ho detto ok, provo. È molto bello, molto bello. È bella esperienza. Grazie. Grazie.